sono arrivati all 2 2 anni sono arrivati che ho fatto 20 anni m m e molti figli ho scattato come fitta io bozze private sono uno comunista A Carogni, a Carogni, ti metto con la tocca, ti metto il figlio io, ti metto il figlio. Se non è la mezza, me lo bevevo l'ora, questo bifo. Com'è? Io non sto a raffondo, io ho 59 anni, non lo faccio stare bene a piedi, le re in una dottore, lui l'ora, io l'ora che sono andata, e lui l'ora, e lui l'ora dell'ora. E lui l'ora, è il figlio. Ma dai, così io, ci metto con i figli. Grazie.